E' morto sul colpo Vito Pagliaccio, 51 anni, di Lanciano, nell'incidente stradale lungo la statale 16 Adriatica in località La Foce di Rocca San Giovanni. La sua moto si è scontrata contro un'auto che proveniva in senso opposto. Forse l'uomo che lavorava alla Sangritana è scivolato subito dopo la curva condosso, dicono i carabinieri della compagnia di Ortona, intervenuti sul posto per i rilievi. Pagliaccio stava rientrando a casa in via Masciangelo, nel quartiere di Santarita a Lanciano, con un cugino che era in sella a un'altra moto e che procedeva davanti a lui. Il cugino non si è accorto dell'accaduto fino a quando, voltandosi all'altezza dell'ex stazione di San Vito, non ha visto più Pagliaccio. Entrambi percorrevano la corsia nord della statale. Tornato indietro, qualche chilometro più sotto, la triste è scoperta. Pagliaccio era sull'asfalto, ferito e soccorso dall'automobilista dell'auto con cui si era scontrato. A nulla sono serviti i soccorsi del 118 né dell'ambulanza né dell'elicottero.